ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nelle pagelle questa volta le faccio proprio subito dopo la partita così siamo ancora caldi o in circolo con le cose che devo dire necessariamente che voglio dire e che dirò senza nessun problema come al solito vi chiedo il supporto quindi un mi piace a questo video e vediamo di non perderci troppo perché voglio andare dritto al sodo la situazione qui non è facile è una situazione delicata lo ricordo non abbiamo la certezza di entrare in champions non abbiamo la certezza di vincere martedì in spagna non ci sono certezze in questo momento l'unica certezza è che non ci sono certezze massimiliano allegri voto 4 e mezzo e qua mi dispiace non tanto dare 4 e mezzo all'allegri perché secondo me è meritatissimo e l'ho detto pure nel video a caldo post partita mi dispiace dovermi ritrovare alcuni commenti del tipo però perché non offendi allegri perché uno addirittura mi ha scritto perché non dici che allegri è un coglione e perché non dici che allegri se ne deve andare perché non dici che serve un altro allenatore per il discorso allenatore lo sapete sono stato il primo in primis quando ancora c'era pirlo a dirvi allegri ok lo prendo lo ritengo un ottimo allenatore lo ritengo tuttora un ottimo allenatore ma secondo me non è un allenatore adatto per questa juventus e quindi ce ne sono degli altri che andrà a prendere prima di allegri e questa è la mia idea dell'epoca ed è la mia idea anche in questo momento se poi la juventus questa estate deciderà di fare un altro progetto che possa incastrarsi meglio con massimiliano allegri allora ok se la juventus vuole andare avanti con questo progetto qua invece con allegri in panchina secondo me saranno sempre due cose che vanno a costare ma questa è la mia personal opinione per quanto riguarda le offese ragazzi ne è pieno il web ne è davvero pieno il web dei posti in cui dicono quelle cose che volete sentire io non l'ho detto con conte non l'ho detto con allegri non l'ho detto con sarri non l'ho detto con pirlo e non lo dirò con allegri perché non sono quel tipo di persona secondo me il rispetto è una componente essenziale perché tutti i giorni davvero ragazzi fatevi un giro sul canale dopo il post partita special modo quando la juventus non vince fatevi un giro non sul mio su tutti i canali di chi fa questa roba qui fatevi un giro e guardatevi se secondo voi questo è un mondo civile perché non è un mondo civile questo perché purtroppo internet ha delle regole diverse dal mondo reale e tante persone sono troppo maleducate quindi io non mi permetterò mai né all'allenatore né al dirigente né al presidente né al giocatore né a un tifoso di dirgli che è un coglione non mi permetterò mai e se non vi basta la critica e se non vi basta il fatto che vi dica secondo me allegri l'ha preparata male è da 4 e mezzo ha sbagliato tutto io non so cosa dirvi ragazzi perché qui non si vuole né difendere né offendere c'è una via di mezzo perché qualcuno ancora è rimasto al discorso che ci sono solo le etichette ci sono solo i poli se allegriano se anti allegriano se dibalista se anti dibalista no io sono juventino e non me ne frega niente di portare avanti una crociata a difesa o una crociata contro un tesserato quando si fa le cose fatte bene lo dico quando si fa le cose fatte male lo dico poi a fine anno trago un giudizio definitivo perché è sempre facile no parlare dietro l'anonimato o senza doversi schierare apertamente dire una cosa perché tanto è un commento e basta e quindi un giorno questo va bene un giorno quello non va bene un giorno questo va bene un giorno come io quando arrivo a dire che eventualmente l'allenatore dell'eventus dovrà essere cambiato quello sarà il mio giudizio da lì alla fine e non cambierà più e sicuramente e questo ve lo metto per scritto e ve lo firmo pure non verrò mai a dire che nessuno è un coglione poi magari lo penserò perché tu non sono perfetto non sono qua a dirvi ah sono la persona perfetta voi no perché no lo penso di tante persone tantissime persone ma sicuramente non mi metto a dire quello è un coglione quello è un coglione quello è un coglione quello è un coglione se voi cercate questo tipo di contenuto nessun problema amici come prima ci sono tanti che offrono questo servizio non sarà il mio canale per me ieri sera allegri la preparata malissimo juric ha dominato la partita a livello tattico non ci abbiamo capito niente non abbiamo fatto niente per modificare questa roba 4 e mezzo 4 e mezzo per un motivo ragazzi c'è tu non le puoi più perdere queste partite e allegri non mi è piaciuto neanche nel post partita non mi è piaciuto neanche nel post partita quel discorso del numerino no di classifica che si è fatto perché il giorno prima in conferenza stampa che cosa dice massimiliano allegri che il punto di bergamo che già non è un risultato che si voleva ottenere però si tiene stretto ma a costo di vincere contro il torino perché sennò quel punto viene magnificato e ieri sera invece subito dopo la partita dice no vabbè ci teniamo anche questo risultato positivo no non sono risultati positivi perché io sono il primo a dire non esigo lo scudetto dato che siamo partiti male e matematicamente è difficile recuperare non una non due ma tre squadre non sono qua a dire che si deve vincere lo scudetto quest'anno nonostante e lo sapete bene secondo me questa rosa è da scudetto questa è una rosa da primo o secondo posto in italia se fosse partito il campionato da gennaio secondo me questa juve da primo o secondo posto in italia se la gioca con l'inter bisogna capire chi delle due più forte sulla carta è così e poi c'è il campo che è un'altra roba però non vorrei che passasse il messaggio che allora gli hanno detto l'importante è arrivare nelle prime quattro e che quindi si cercherà di fare quel cammino lì perché l'abbiamo già fatto il cammino al quarto posto e questo qui il cammino al quarto posto è pieno di insidie di alti di bassi ma se alla juventus e abbiamo una rosa davvero forte in questo momento e abbiamo delle necessità di recuperare punti non più di lasciarne per strada e ne stiamo continuando a lasciare per strada e quindi basta questa tendenza è mister bisogna trovare una linea seguire quella linea esaltare le caratteristiche dei giocatori far rendere i giocatori che sono stati acquistati a gennaio al loro meglio e non dimenticarsi mai che la juventus non scende in campo per non vincere la partita devono vincerle tutte poi possono non arrivare i risultati come con l'atalanta e io sono il primo a dire che preferisco la vittoria con brutta prestazione piuttosto che la non vittoria con prestazione ottima la partita con l'atalanta secondo me è stata giocata bene il risultato non è arrivato per quanto mi dispiaccia perché mi dispiace e non sono assolutamente contento del pareggio me la faccio andare giù questa partita col toro mi lascia qualcosa dentro di terrificante di terrificante una sensazione quasi di accettazione perché mi sono sentito nettamente inferiore al torino mi sono sentito per tutta la partita nettamente inferiore al torino perché vedevo che l'atto allenatore non si facevano modifiche nei continui errori che erano stati fatti che venivano riproposti perché juric continuava a fare quella roba lì e noi continuavamo a non correggerla e a soffrire le stesse cose e l'atto calciatori perché non c'era quella voglia quella scintilla di fare capire che stai giocando al derby di torino in casa tua a quattro giorni da una partita di champions è una sensazione che non si può provare quella lì e mi vergogno a dirvelo di aver provato quella sensazione lì mi vergogno come un cane ma l'ho provata per tutta sera la sensazione che quella partita non si sarebbe vinta perché il toro ci ha fatto vedere che è un'altra cosa che non mi è piaciuto che ieri sono partito dicendo complimenti al torino e juric per come l'hanno preparata in tanti mi hanno detto di non fare i complimenti agli avversari ragazzi lo sport è questo è lo sport è questa roba qui è lo sport è che quando vinci bene perfetto bravo festeggi quando perdi se gli altri si meritano i complimenti li rifai perché troppe volte io negli anni mi sono sentito quasi offeso dai comportamenti di tanti tifosi di tante squadre non dico di tutti perché l'erba lo fascio io non la farò mai ma di tante volte mi sono sentito offeso di leggere sentire la juve ha vinto per questo per quello però però sai che allora se fosse stato campo ha detto quella roba lì che adesso c'è anche il discorso no polemica piazza che non era tra i convocati qualcuno metto ma allora possiamo vincerla di ricorso il campo ha detto che il torino ti è stato superiore la partita ieri e che è finita uno un punto a testa sul campo che è quello lì che parla resto non mi interessa allegri per me da quattro e mezzo la critica c'è sarà sempre criticato qualsiasi tesserato della juventus non sarà mai offeso nessun tesserato della juventus andiamo avanti cesni sei e mezzo secondo me cesni ci ha pure salvato poi magari nel gol qualcosina magari si poteva fare però tutta la partita cesni ci ha salvato ha fatto due o tre interventi fatti bene uno su mandragora quello di pugno quello sul cross basso del toro al primo tempo quindi secondo me si becca sei e mezzo e senza cesni probabilmente ieri la perdevi tranquillamente del hit sette l'unica credo nota positiva di questa serata guarda ti dirò anche sette e mezzo sette e mezzo perché ha fatto gol perché la prestazione probabilmente da sette ha fatto un paio di errori in uscita però poi il gol deve portarla subito gli do sette e mezzo aumento in corsa e anche all'ultimo secondo era l'unico 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 ragazzi che portava palla quasi da mezzala la trequartista negli ultimi minuti quasi a volerci credere solo lui si vede che c'è una pasta diversa in sto giocatore qua è una cosa impressionante è una pasta differente è una personalità differente è qualcosa che trascina tutti è mattais del hit ed è semplicemente uno dei nostri migliori giocatori fine punto sette e mezzo alexandro sarebbe da quattro e mezzo perché purtroppo l'errore sul gol è troppo evidente ma come dicevo ieri sera non me la sento di essere così severo perché alexandro viene buttato nella mischia da difensore centrale uno dei peggiori giocatori che abbiamo avuto in questa stagione fino adesso per rendimento e viene messo in un ruolo non suo dopo aver preparato in settimana tutta la partita in un altro ruolo quindi credo anche che almeno un errore possa essere messo in preventivo no poi ci sono tanti altri demeriti della juve che quell'errore che magari mettevi in preventivo non è riuscito a trasformare in vittoria perché ne so 3 a 1 perché tu non hai mai attaccato non hai mai avuto occasioni concrete se non un paio e quindi ad alexandro do 5 meno gli do qualcosina in più proprio perché le colpe ce li ha e sono evidenti però fare il massacro su alexandro nella partita di ieri non esiste secondo me non esiste a differenza di quanto magari era accaduto in altre partite nella partita di ieri non esiste 5 anche a quadrado non mi è piaciuto non mi è piaciuto ieri la classica partita in cui quadrado dice a me non interessa giocare mi interessa soltanto che mi fischino i falli e faccio passare il tempo faccio passare il tempo poi alla fine ragazzi incredibile negli ultimissimi minuti sbaglia la rimessa con le mani due volte va sul fondo per crossare e fa due cross fatti male cercava di saltare gli uomini niente la simulazione su un fallo che magari c'è pure ma quei versi quel mettersi le mani in faccia quel rotolarsi quell'urlare e poi vai anche in faccia all'arbitro e litighi anche con l'arbitro ti fanno capire che non era in partita e la partita di quadrado veramente secondo me è stata terrificante da 5 tondo 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 anche luca pellegrini non mi è piaciuto ragazzi poi vale un po il discorso fatto per alexandro buttato nella mischia all'ultimo una partita nella quale non dovevi giocare era tanto tempo che non giocava però è andato molto in difficoltà pellegrini molto tant'è che morata era costretto spesso ad abbassarsi per dargli una mano perché capiva che che non ce n'era quindi secondo me da pellegrini da quello che ci ha fatto vedere pellegrini se vuole davvero continuare a rimanere alla juventus ed essere un'opzione per la juventus questo è uno standard di partite che non può giocare purtroppo lo sappiamo alla juventus un ragazzo giovane tutte queste opportunità se inizia a sbagliarne due o tre di fila poi viene cannato la juventus è una mannaia se vede che non c'è subito se non sei subito pronto non c'è più spazio la juventus e quindi è un problema penso che pellegrini non avrà ancora tante opportunità di mettersi in mostra e farsi vedere perché la juventus è una mannaia e qua non si scappa ieri 6 non mi è piaciuto secondo me la peggior partita di pellegrini quest'anno le altre mi era piaciuto tutto lo sapete ne abbiamo sempre parlato bene ieri proprio terrificante forse anche la penultima non era stata proprio eccellente ma ieri proprio no 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 vabbè poi de sciglio è entrato 5 e mezzo una partita un po po così de sciglio un paio di errori tecnici e poca spinta non il miglior de sciglio che avevamo visto nei mesi scorsi locatelli io gli do 6 e mezzo perché secondo me locatelli è il migliore in campo dopo del hit fatto due tre robe nel primo tempo che è stato veramente l'unico a crederci due tre robe tecniche proprio i palloni con i giri contatti un paio di sombreri un tacco due tre palloni giocati sui piedi ai compagni sulla corsa ai compagni e poi basta poi si è spento anche lui è stato sostituito io non avrei mai tolto neanche sotto tortura un'altra cosa che dico su allegria che secondo me quel cambio lì è inconcepibile anzi avrei tolto probabilmente uno tra zaccaria era più permettere artur e locatelli perché ti mancava qualità il palleggio e quindi togliere locatelli mi sembra un po una follia però ieri sera secondo me davvero uno dei pochi che si va a salvare il locale 6 e mezzo rabbio e zaccaria li metto insieme perché mi hanno dato la sensazione ragazzi avete presente quando si dice né carne né pesce zaccaria e rabbio alcune cose fatte bene alcune cose che dici ma sono ancora in campo ci sono anche quella progressione no di rabbio ci sta però mai ci manca sempre il concreto ragazzi ci manca sempre il concreto arriviamo lì sfioriamo arriviamo lì cadiamo e passa da queste cose qui puoi essere una squadra che va in champions una squadra che vince lo scudetto una squadra che passa il turno in coppa passa da queste cose qui invece non mi è piaciuto per niente meccanico quando è entrato 5 secco non c'è mai stato un po tra le linee un po impreciso sempre da qualche partita meccanico sto veramente facendo fatica è a valutarlo c'è stato il periodo boom dove faceva gol sempre super coppa così e adesso mi sembra un po adagiato meccanico non è entrato per niente bene ieri poi è vero che è entrato a fare un ruolo particolare quello che c'è di bala però invece artur secondo me è entrato bene ha preso prende il suo 6 ha giocato veramente poco però gestione del pallone lui ce la mette sempre ribadisco l'avrei voluto vedere insieme a locatelli non al posto di locatelli vlaovic 5 secco così la seconda partita di fila dove vlaovic non mi convince e se dicevo che l'altra volta invece spalla la porta aveva fatto un grande lavoro oggi nemmeno infatti il voto è più basso di vlaovic mi ricordo un paio di robe quell'azione fatta bene nel primo tempo negli unici dieci minuti di partita in cui abbiamo giocato in cui viene a prenderla e poi fa l'appoggio la palla va verso rabbio un tiro che ce l'aveva anche comoda sul mancino poteva fare sicuramente meglio e poi con la roba assurda la per morata campanile la così perso credo tutti i duelli con bremer però è quello che dicevo nel post partita no se di bala va a centrocampo e se morata si abbassa sulla linea dei centrocampisti allora vlaovic la da solo deve far la lotta con bremer se non vince il duello basta annullato e finisce lì sì però vlaovic non può essere lì da solo a tenere su una squadra intera quindi le colpe vanno anche nella preparazione della partita però vlaovic il 5 se lo becca perché ha fatto una partita brutta lui è una partita che è stato costretto a fare brutta per via della preparazione fatta male dispiace mando 5 pur a morata non mi è piaciuto per niente proprio quello che vi dicevo veniva troppo basso poi magari un paio di spunti anche quando è andato a giocare al posto di vlaovic due tre robe fatte bene sì però è sempre mancato quel qualcosa in più ragazzi non vorrei mai che fosse finito l'entusiasmo del mercato e tutti pari a prima perché se è così allora evitiamo di fare calcio mercato evitiamo davvero di fare calcio mercato se l'obiettivo è l'entusiasmo che si crea per un mese non facciamolo contentiamoci di quelli che siamo non è un discorso su morata mi è venuto in mente nel mentre parlavano di morata però ci serve qualcosina in più a tutti è dall'allenatore all'ultimo dei panchinari vengo fuori a dirigenza solo perché secondo me loro loro l'hanno fatto col mercato e adesso tutto allenatore e calciatori cioè non si scappa abbiamo detto mille volte allegri non ha più chance non ha più scuse cioè adesso fare 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 e non è che stiamo ancora a chiacchierare non si può più chiacchierare fine momento delle chiacchiere finito di bala 5 e mezzo secondo me il migliore dell'attacco della juventus però capite bene che se il migliore dell'attacco della juve si prende 5 e mezzo gli altri significa che sono andati male di bala ti dà sempre quella sensazione no di poterti accendere la lampadina però ieri sera poco veramente poco anche nel palleggio poco perché perché era stato completamente dedicato alla marcatura uomo su mandragora ora io non mi spiego se la juventus che tra cinque giorni quattro giorni tre giorni gioca un ottavo di finale di champions deve avere paura con tutto rispetto di rolando mandragora a tal punto da snaturare un sistema di gioco che era funzionato che aveva funzionato nelle ultime partite tutto questo per marcare a uomo mandragora e snaturare anche di bala ma queste cose secondo me non ci stanno e questo è ovvio che passa la massimino allegri e questo spiega il quattro e mezzo e sono tutte quelle cose che non mi sono piaciute ma non esiste che l'eventus abbia più grave di mandragora a tal punto da annullare la sua fase in possesso palla la sua fase offensiva non esiste e poi è ovvio che anche di bala ne va a soffrire di bala ieri ha fatto quello che faceva kuluseski su brozovic con l'inter però l'ha fatto con mandragora in casa nostra il derby col toro a tre giorni nella partita di champions poi vediamo probabilmente si è fatto male probabilmente non ci sarà io adesso sto registrando il video a luna di notte quando uscirà magari c'erano già aggiornamenti li avremo letti un po rappertutto però però tant'è e do 5 pure a moise ken perché io credo che in questo momento moise ken sia letteralmente impresentabile a qualsiasi livello davvero è ne parlavo con un mio amico pochi minuti fa ken in questo momento impresentabile a qualsiasi livello e queste erano le pagelle fatemi sapere un po anche voi cosa ne pensate se ci saranno altre cose da dire faremo un altro video nella giornata di sabato magari verso sera però io non sono per niente soddisfatto come potrei poi ovviamente ma mi salvo cesni che non mi ha fatto perdere la partita probabilmente del hit che si conferma sempre più indispensabile fondamentale uomo squadra probabilmente leader e capitano in modo allucinante e probabilmente parzialmente locatelli perché qualcosina il loca me l'ha fatto vedere per tutto il resto io boccio e poi ve lo dico già qui così vi preparate come vi dicevo no etichette di balista allegrista è io non ho paura a esaltare o a criticare a seconda di quello che vi che vedo non ho paura e lo sapete bene io di bala l'avrei rinnovato ieri non oggi non domani ieri ma questa settimana proprio perché si gioca la champions con villa reale eliminazione diretta uscirà un video che toccherà in maniera particolare delicata paolo di bala e sono curioso di vedere la vostra reazione fatemi sapere un po le vostre qui sotto nei commenti grazie